L'avevano promesso, no? Ogni mese vi aggiorniamo su quelli che sono i problemi della tossicità e su come li stiamo affrontando e su come i sistemi di controllo del comportamento vengono modificati e aggiornati per affrontare questo problema che dura ormai da un decennio ma quest'anno sembrano voler affrontare per davvero. Ancora una volta per chi non ha visto gli altri precedenti video, stanno cominciando a implementare una marea di modifiche ma loro lo reintroducono e rispiegano tutto quanto, quindi andiamo avanti e leggiamo direttamente l'articolo. Nel nostro aggiornamento di luglio abbiamo indicato alcune aree specifiche di comportamenti negativi sulle quali ci saremo congetrati azioni finalizzate alla sconfitta intenzionale, cioè tutti quelli che si lanciano sotto la torre avversaria quelli che vanno a FK in base, quelli che vendono tutti gli oggetti per poi comprare solo mobility o l'acrino della dea e poi anche l'abbandono delle attività nelle partite. Queste categorie di giocatori includono il feeling intenzionale che aiuta gli avversari, cioè suicidarsi e dare risorse agli avversari il sabotaggio tramite azioni gameplay negative, il griefing, ad esempio vendere i propri oggetti dare informazioni agli avversari su dove sei, buttarsi sotto torre regalando non kill ma semplicemente tempo agli avversari di fare le cose splipusciare quando tutto il tuo team si sta chiedendo di aiuto mentre stai difendendo la Nexus, cose di questo tipo. Abbandono intenzionale della partita quando quitti una ranked, in generale o una partita in genere. L'inattività durante la partita, cioè essere ancora presente ma stare in fontana a fare i giri per dire eh ma io non sono a FK, convinto che non verrai punito, e adesso verrai punito. E le disconnessioni dal gioco che, ora, io questo posso capire che sia discutibile per alcuni che dicono eh ma io ho la linea di merda, gn 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 gn. Il punto è che se non hai una linea di merda mi dispiace per te ma purtroppo vai a impattare negativamente. non può essere colpa della Riot se vieni punito per una disconnessione. Incazzati col tuo service provider, incazzati con quello che ti dà internet. Riot purtroppo deve anche tener conto di quelli che si pegliano all'inculata perché tu hai una connessione di merda. Lo comprendo. Se devi pensare a uno, devi pensare ai quattro bastardi che si beccano te in team che vai a FK perché si disconnette, basta fare una cosa, vai in custom, prova se lagga, se non lagga, bene. Allora decidi di giocare, altrimenti fai qualcos'altro, gioca a solitario, cioè su PC dovrebbe esserci ancora a solitario, no? Forse sono così vecchio. I nostri obiettivi sono ridurre la frequenza dei comportamenti citati di tutte le code e attenuare gli effetti sui giocatori vittime di comportamenti negativi durante le partite. E questa è la parte che più mi piace in assoluto, la seconda. Attenuare gli effetti sui giocatori vittime di comportamenti negativi durante le partite. Cioè quando qualcuno va a FK, quando qualcuno trolla, quando qualcuno fida, e fida intendo proprio corri dritto in faccia all'avversario, non viene dai vato sette volte, povero bastardo, non può farci nulla perché è stato camperato a merda. Quelle sono due cose ben diverse. Individuazione del feeling intenzionale dell'AFC in attività. Dopo centinaia di scoraggianti esami manuali dei VOD e esercizi di verifica, riteniamo di essere finalmente pronti per iniziare a testare i miglioramenti al sistema di individuazione del feeling intenzionale dell'AFC in attività. Queste modifiche ci permetteranno di 1. Raddoppiare la frequenza di individuazione di questi comportamenti. Che prima li trovavano e che ci mettevano un sacco di tempo, adesso dovrebbero metterci metà del tempo per farlo. Che, oh, se si passa già da 100 ore a 50 ore, io sono già contento, perché vuol dire duplicare la quantità di persone che vengono bannate. Agire in modo più costante in loro confronti, cioè che se succede una volta e tu lo rifai, continui ad essere punito. Non è che di colpo, ah, ok, ti ritrovi, puoi entrare, puoi farlo quante volte vuoi. Ah, ah, ah. Controlli, vieni bannato, torni dopo due settimane, se rifai la stessa cosa, fuori dal cazzo. Dai, ti fermo a banna. Far sapere ai giocatori quando scopriamo comportamenti negativi durante una partita e cercare di ridurre l'impatto che hanno sulla loro esperienza. Quindi stanno cercando di studiare anche metodi per dire, guarda, lo sappiamo, hai una testa di cazzo in team che sta trovinando la partita, trollando la partita, si sta lanciando sotto torre, non ti preoccupare, cercheremo adesso di rimediare. E loro spiegano. I nostri primi miglioramenti e l'immigrazione sono già state pubblicate con la 10.15, quindi già sono presenti degli aggiornamenti al sistema di recezione, di ricerca di quelli che provano a trollare e inventare le partite. Continueremo a implementarne altri nelle prossime batch, quindi continueranno a migliorare il sistema. Stiamo cercando di fare in modo di identificare questi comportamenti quando si verifica per ridurre gli effetti sui giocatori durante le partite e prendere provvedimenti contro i responsabili immediatamente dopo. Quindi uno esce dalla partita in cui uno è andato da af, quattro lato, bam, punizione, diretta. Questa è l'idea alla quale vuole raggiungere Riot. Azioni di afkan in attività. Se individuiamo più spesso i comportamenti negativi, in che modo reagiamo? Per ridurre l'impatto generale ai comportamenti di afkan in attività su lol, abbiamo individuato diverse opzioni che hanno vari obiettivi. Uno, impedire che questo comportamento si ripeta. Se uno è stronzo, è stronzo, viene bannato. Due, dissuaderne il verificarsi. Cioè, trovare il modo per convincere la gente zio, smetti di farlo. Punizioni più efficaci, punizioni più potenti. Permabun se necessario. Permabun per i D, se proprio vogliamo essere esagerati, come fanno su Valorant. attenuarne nell'impatto nel caso in cui si presenta. Quindi, gli stronzi che si beccano, il bastardo che vuole rovinare una partita, non vengono puniti, ma anzi, soffrono meno questo problema. Stiamo esplorando in modo più approfondito le seguenti soluzioni per risolvere, nel breve termine, il problema dell'afk. Uno, l'opzione di resa anticipata, nel caso in cui un giocatore afk venga identificato all'inizio della partita. Uno, instacuita, magari per problemi, magari perché ha dato una kill, ha deciso bene, è finita, allora l'afk. Sti cazzi, hai modo di anticipare la resa se c'è uno che è proprio afk e non si collega. Due, riduzione della perdita di punti lega, che l'avevo detto anche nell'ultimo video che sarebbe successo, per i giocatori che, nelle partite classificate, si trovano ad avere squadra un giocatore afk o intenzionato a perdere. Quindi, nel momento in cui decidono, si rendono conto, ok, c'è un tizio che ha rovinato la partita, facciamo perdere meno LP a tutti quanti. In passato avevano paura che la gente che fa duo potesse abusare questo sistema. Sono contento che abbiano ripensato, riconsiderato la loro posizione. Io sono sempre stato dell'idea che avevo una logica a quello che pensavano, ma avevano troppa paura che questo potesse succedere, in maniera esagerata. Il fatto che abbiano riconsiderato è una cosa positiva, meno male che l'hanno fatto. Quindi, meno perdite di LP quando perdete una ranked, se vi trovate un afk o uno che è inta. Penalità alle code più severe perché si disconnette o vafk, quindi magari non puoi rancare per un certo periodo, magari non puoi rancare per un grosso periodo, dipendentemente a chi si disconnette o vafk. Quindi, ciaone, vai a giocare in normal o a fare in culo, dipendentemente da quello che preferisci fare. Preferibilmente la seconda, se vai afk, il ranked volontariamente sei abbastanza stronzo. E tutti hanno fatto errori, sono sicuro che ognuno di noi almeno una volta l'ha fatto, che sia per sbaglio o per errore o per problema personale. avvertimenti prima della coda per i giocatori che hanno già avuto comportamenti negativi in partite precedenti. Cosa succede? Nel momento in cui tu entri in partita e tu sei uno stronzo e hai già rovinato qualche partita precedentemente, ottieni questo avvertimento che dice zio, guarda, se non ti regoli noi ti permabagniamo. Poi cazzi tuoi, eh? Però noi ti permabagniamo se continui così. Quindi stanno cercando anche di dire di dargli quell'avvertimento. Smetti, per favore. Se no, ban. Diretto, al volo. Non è che poi ci sono sistemi per resettare. No, no, no. Dopo quell'avvertimento se tu fai un errore il tuo account è sotto controllo. Se tu fai un errore bam! Bam, violentissimo. Vogliamo ricevere feedback dai giocatori su queste soluzioni. Per questo le implementeremo nello stesso modo sperimentale che abbiamo usato per la segnalazione e la selezione del campione. Non abbiamo ancora una data precisa ma dovremo riuscire a farvene provare almeno una nel prossimo mese. Adesso, nel prossimo mese quindi vuol dire entro fine settembre quindi all'interno di quello che è la patch 10.17 o 10.18. Il senso è che comunque richiede tempo questa cosa e se dovessi sceglierne uno la priorità del code più severe è quello che faranno più facilmente. Le opzioni di resa anticipata pure perché la resa è già un sistema già presente nel gioco e peggio che la riduzione a perdita IPL sia quello che ci metterà un pochino di più mentre gli avvertimenti della code cioè se dovessi andare in ordine 1, 2, 3 e 4 perché la riduzione a perdita IPL vuol dire che in tempo reale riesce già a capire e quello è il sistema più complesso in assoluto da sviluppare. Quindi vedremo, vedremo. e a proposito di segnalazione nella selezione campione due patch fa abbiamo lanciato la funzionalità di segnalare e silenziare nella selezione campioni. Siamo riusciti a raccogliere una quantità di dati significativa su comportamenti negativi in questa fase di gioco e siamo riusciti a offrire ai giocatori un modo preventivo per evitare le offese verbali nella selezione campione durante la partita. Per questo invece di rimuovere questa funzionalità dopo l'esperimento di due patch perché volevano rimuoverlo per poi riproporlo in futuro hanno deciso di tenerlo hanno deciso di tenerlo fisso hanno deciso di lasciarlo attivo quindi puoi continuare a reportare continuare a mutare le persone perché dicono il sistema funziona quindi non ha senso migliorarlo per ora lo teniamo lì continuiamo a lavorarci sopra ma non dobbiamo toglierlo disattivarlo non è necessario le due principali tendenze che abbiamo riscontrato nella selezione nella segnalazione riguardo ai giocatori in cui i campioni sono stati bannati dai loro stessi compagni di squadra e quelle relative ai comportamenti negativi in chat quindi o uno è uno stronzo scrivendo oppure perché uno segnala spesso e volentieri perché gli hai bannato il campione per sbaglio volontariamente poco importa anche se sappiamo che i problemi non sono limitati da queste due categorie sono sufficienti per permetterci di iniziare a sviluppare miglioramenti in base ai risultati del nostro esperimento quindi per quanto ci sia tanta gente stronza magari anche già in Champions Select attualmente il sistema non viene utilizzato ovviamente sempre comunque solo per le cose giuste ma anche per le cose sbagliate conferma individuazione di ban ci rendiamo conto che ci siano delle preferenze personali e un peso strategico per alcuni ban e vogliamo che possiate continuare a scegliere contro quali campioni non volete giocare tuttavia vogliamo che sia più evidente quando il campione che avete scelto per i ban corrisponda a quello che un compagno di squadra vuole giocare e quindi cosa fanno implementano un sistema migliore di rivoluzione automatica in grado di controllare se volete veramente bannare un campione con il vostro compagno di squadra in intenzione selezionale in pratica il sei sicuro di voler bannare questo campione ciccio vuole giocare questo campione e tu dovrai premere sì solo in quel caso allora il ban andrà a segno su quello specifico campione cosa che io ritengo anche abbastanza giusta perché almeno è una misura di sicurezza in più proprio per evitare che succedano errori anche a me è capitato di farlo per sbaglio non è una cosa che faccio volontariamente però oh capita gli errori capitano a tutti quanti non solo integrazione sistema di pari in età anche se non è ancora possibile agire contro i comportamenti negativi comportamenti negativi direttamente durante la selezione di campioni introdurre i migliori provvedimenti possibili post partita per risolvere i problemi più comuni in modo simile alla segnalazione di fine partita in pratica magari uno ti ha detto di ammazzarti durante la selezione campioni che è simpatico questo essere umano viene riportato a fine partita la partita la deve giocare perché ormai la selezione di campioni è partita magari in un futuro prossimo viene bannato in diretta proprio mentre l'ha scritto bam bannato appunto direttamente ma nel momento attuale non possiamo ancora fare così dice Riot e dice ok dopo la partita viene comunque bannato quindi l'idea è collaborare anche su quello e poi concludo dicendo durante ognuno di questi esperimenti il vostro feedback la vostra esperienza rispetto a queste nuove funzionalità ci aiuta a indirizzare il sistema di controllo e comportamenti grazie per il vostro sostegno e per l'aiuto che ci date per rendere migliore le esperienze di gioco ora già avere il report in selezione campioni e il mutare è stato figo cioè quello vederlo è stato strano quella prima volta che l'ho visto e non l'ho non ho ancora avuto l'occasione di mutare qualcuno ma di di reportare qualcuno un paio di volte mi è successo quindi ho un po' di speranza è da vedere se se la merita Riot vediamo aspettiamo con calma lo scopriremo io spero sinceramente che continuino così continuino a mantenerci aggiornati continuano a dirci tutto quello che succede poi il mese prossimo arriverà anche quello che è l'aggiornamento sul client sul su che cosa hanno cambiato come è cambiato come è migliorato e incrocio le dita che continuino a migliorarlo per il resto buono così sono contento davvero davvero contento signori però questo è quanto per questo video io vi ricordo ancora una volta iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace commentate sotto al video se fatemi sapere che cosa ne pensate di tutte queste nuove feature e non solo condividetelo con i vostri amici se vi piace il mio canale ma signori questo è quanto per questo video e noi ci vediamo al prossimo